Senatore Candiani, la situazione in Italia è critica per molte famiglie e il gioco d'azzardo sta rovinando molte persone. Per questo motivo, oggi in question time, che cosa chiede al Premier Enrico Letta? Chiederemo al Presidente Enrico Letta di impegnare il Governo in una lotta seria e determinata rispetto ai rischi e ai gravi danni che ormai sono accertati il gioco d'azzardo produce su tantissime famiglie italiane. In effetti pochi conoscono i numeri nel suo complesso e sono veramente enormi. In Italia il gioco d'azzardo ha un fatturato di circa 70 miliardi di euro, più del doppio della manovra finanziaria fatta dal Governo Monti, quella che non è chiamata Salvi Italia. E di questi ben 14 miliardi rappresentano l'esborso totale da parte dei cittadini, cioè quello che viene poi introitato dallo Stato. Questa è una cifra enorme, una cifra che va a impoverire le famiglie, soprattutto in un momento di grave crisi economica. E questo è quello che dobbiamo impedire, ovvero che le famiglie si aggrappino con la speranza di una vincita facile alla possibilità di poter risolvere i propri problemi economici, trovandosi in effetti nel 99,9% dei casi con le tasche ancora più bucate, quindi con difficoltà finanziarie ancora più aggravate. Ecco, questo è quello che non può essere. Quindi lo Stato non può risanare le finanze pubbliche utilizzando un metodo come quello del gioco d'azzardo, che va in effetti a impoverire le famiglie, essenzialmente anche le più deboli. Lei in mano due gratte vinci, le mostrerà il Presidente Enrico Letta? Sì, questo è un esempio ovviamente. Oggi quello che fa più danno all'interno del gioco d'azzardo, nel sistema del gioco d'azzardo, sono slot machine, quindi quelle macchinette che sono distribuite con una presenza capillare sul territorio, molto pericolosa. Questo però è un esempio di quello che è diventato la facilità nel raggiungere il gioco d'azzardo e l'aleatorietà della fortuna. Non è con questi sistemi che si stabilizza l'economia italiana, ma è con questi sistemi che si crea un grave danno alle famiglie. Noi non siamo d'accordo, abbiamo presentato una mozione per chiedere una moratoria in questo senso e insisteremo ancora oggi col Governo perché si prendono dei provvedimenti che blocchino questo degrado.